Oggi ha fatto queste tre scosse qua, che sono tutte allineate, una, due, tre, che corrisponde al sismogramma qui, questo è il primo, poi si continua qui, questa è la seconda scossa e questa è la terza scossa. Tre forti scosse di terremoto hanno fatto tremare nuovamente l'Italia centrale nella mattina di mercoledì tra le 10.25 e le 11.26, la magnetude tra 5.1 e 5.5, il sisma è avvenuto tra l'Aquila e Rieti nella zona di Monte Reale. L'epicentro di oggi, l'epicentro della scossa delle 9.25 è qui a Monte Reale, qui abbiamo il lago di Campotosto, qui è l'Aquila e qui Amatrice per orientarsi, praticamente siamo a metà strada tra Amatrice e la sequenza del 2009 dell'Aquila. Qui ho fatto tre scosse importanti di magnetude 5.3, 5.4 e 5.3, praticamente allineate che vanno da nord-ovest a sud-est, uno, due, tre. Qual è la profondità? La profondità è sempre la solita, intorno a 8-9 km. Le scosse sono state avvertite distintamente anche nell'Aretino, preso d'assalto il centralino dei vigili del fuoco di Arezzo. In città e in provincia non si registrano danni di alcun tipo. Cato Arezzo hanno chiamato pure il casentino, anche a Stia, proprio l'hanno sentito, perché stiamo sulla dorsale abeninica e magari le onde si sono propagate, soprattutto nelle valate con i depositi alluvionali, le amplificazioni sono più forti rispetto alle abitazioni che stanno su roccia. Si può parlare di scossi di assestamento? Ma le scosse di assestamento sì o no non è importante, sono tutti terremoti e l'assestamento per me ha un aspetto che diminuisce l'effetto. Sono tutte scosse assestanti su delle strutture sismotetoniche, sono tutti terremoti, non è che l'assestante è meno pericoloso dell'altro. e provocano tutti i danni e spaventano nella popolazione e quindi sono scosse che avvengono dopo la scossa principale. Allora, dopo il 24 agosto fino ad oggi abbiamo avuto tre magnitudo 6 e ogni magnitudo 6 richiede, statisticamente non richiede, ma comunque tira dietro di sé un certo numero di magnitudo 5 e visto che il numero di magnitudo 5 finora è stato minore rispetto al numero di magnitudo 6, non è una grande sorpresa che oggi ci sono queste scosse qua.